E' tempo di cambiare Come associazione Ecofatto ci impegniamo da tre anni su attività legate alla sostenibilità ambientale, quindi noi nasciamo e cerchiamo di promuovere tematiche legate all'educazione ambientale. Abbiamo creato inizialmente uno spettacolo nostro, quindi autoprodotto, in cui in maniera abbastanza divertente e popolare cerchiamo di dare delle indicazioni utili nel quotidiano. Poi a un certo punto ci siamo detti che forse non riusciamo a dare troppa visibilità alla tematica e abbiamo ideato un cartellone pieno di personaggi di spicco che in qualche maniera, essendo anche noti, possono dare visibilità anche alla tematica. E l'abbiamo intitolato è tempo di cambiare perché riteniamo che sia effettivamente tempo di cambiare i nostri rapporti con il pianeta e quindi le nostre abitudini quotidiane, perché oggi più che mai è meglio relazionarsi con tutto ciò che abbiamo intorno, in maniera tale poi da preservare le risorse di questo pianeta e lasciarlo intatto alle generazioni future. Quindi questa era l'idea che ci ha fatto in qualche maniera partire in questo percorso di realizzazione della rassegna. Abbiamo coinvolto personaggi che vanno da Jacopo Fo fino a Andrea Segre, Massimo Cirri, Diego Parassole e Patrizio Roversi, cioè tutti personaggi noti che però hanno già nel concreto fatto azioni in tema di sostenibilità ambientale. Perché viviamo in una provincia che è bellissima dal punto di vista dei territori, vogliamo in qualche maniera tutelarla, ma come dire, replicando situazioni già fatte da altri. E questi personaggi non sono dei filosofi, diciamo, ma hanno già realizzato nelle varie tematiche ambientali attività, azioni, e quindi in qualche maniera, oltre a divertirci, perché sono tutti spettacoli divertenti, riusciremo anche a carpire, come dire, delle informazioni da ripetere poi nel territorio. Grazie. Grazie a voi. Qui con noi c'è Davide Rossi, assessore provinciale alla cultura e vicepresidente alla provincia. È un'idea per portare nei teatri della comunità montana di Catria e Nerone, spettatori di cultura ambientale. Cosa vi aspettate da questo progetto e perché l'avete sostenuto? L'abbiamo sostenuto, intanto, il primo motivo, il motivo principale che condividiamo, perlomeno io condivido, l'impostazione politica, io lo chiamo così, di questa iniziativa. Non è soltanto un'iniziativa culturale o di sensibilizzazione ai temi dell'ecologia e dell'ecosostenibilità. Secondo me da questa serie di spettacoli divertenti con un approccio popolare esce, si delinea anche una sorta di manifesto politico-economico, quindi una proposizione di uno stile di vita diverso, di una gestione dell'ambiente e dell'economia e anche della vita quotidiana in ciascuno di noi alternativa a quella dominante, che è fatta di consumismo, di liberismo, di idea di crescita infinita che contrasta con la realtà delle cose. Quindi a me sembra che questa iniziativa abbia il pregio di far vivere i nostri teatri anche, perché tre di queste cinque iniziative si svolgono in teatri della provincia e noi facciamo sempre più fatica a organizzare attività che consentono di tenere aperti questi teatri, quindi è un contributo da quel punto di vista. E poi, ripeto, è principalmente un'iniziativa che condividono i contenuti. Siamo con Cristina Pala, referente provinciale del Last Minute Market. E' presente a due spettacoli di Andrea Segre. Ci può parlare del suo impegno nel Last Minute Market? Allora, Last Minute Market è uno spin-off accademico dell'Università di Bologna, creato da Andrea Segre, che parteciperà a questo evento teatrale con due spettacoli, uno Waterfront e uno Menosprepio Eico, dove appunto affronterà i temi dello spreco che lui ha proprio messo in pratica con il Last Minute Market, cioè come ridurre gli sprechi, e lui ha trovato il modo per cambiare, cioè per rendere concrete delle azioni e far sì che delle cose ancora buone, prodotte in scadenza, cose che possono essere ancora utili, buone, edibili, utilizzabili, vengano recuperate e date a chi ha bisogno. Praticamente ha creato questo sistema, che è un sistema di relazioni, cioè c'è un donatore, non so, un supermercato, che ha delle cose in scadenza, delle cose ancora buone, la confezione leggermente danneggiata, che i consumatori non acquistano più, al posto di buttarlo via, di farlo diventare un rifiuto, tramite un'associazione di volontariato, viene dato a un ente di assistenza, a una casa famiglia, eccetera. Quindi questi prodotti non solo aiutano qualcuno che in quel momento ha bisogno, ma non diventano dei rifiuti. Quindi si sono unite due cose importantissime, salvaguardiamo l'ambiente e aiutiamo le persone. E questa, l'Irasminut Market, è un'azione concreta, che anche la nostra provincia, insieme a Marche Multiservizi, ad Aset, ha promosso da un anno e mezzo circa a questa parte, che ha dato degli ottimi risultati. Perché abbiamo fatto questo anche nella nostra provincia? Perché effettivamente purtroppo si spreca tanto, nonostante la crisi economica, nonostante tutti i problemi che ci sono, continuiamo a sprecare tanto, perché abbiamo un pochino perso il senso di quello che acquistiamo. E negli spettacoli a cui Segre prenderà parte, vi diranno in modo molto anche divertente e coinvolgente, quali sono anche quei piccoli accorgimenti che noi consumatori, noi singoli cittadini, possiamo mettere in pratica per non sprecare. E allo stesso tempo imparare magari a donare, piuttosto che a buttare via. Grazie a tutti.